Ciao a tutti, siamo molto contenti di venire a suonare nuovamente in Belgio non ritorneremo da soli ritorneremo con un'orchestra enorme e venite queste segne sono per questa orchestra che porteremo anche dopo per cui il 30 saremo a Charleroi al Palais de Boussard e il 31 a Liegi a Le Forou vi aspettiamo in tanti perché questo dicono qui in Italia e abbiamo fatti già tanti di concerti che sia un bel concerto della nostra storia è vero io dovete venire ciao ciao